Nuova puntata oggi di quella che è la rubrica che ho realizzato già da qualche tempo e che mi permette di parlare di quelli che sono i migliori esorti da un punto di vista registico nella storia del cinema con le puntate precedenti tra l'altro che vi invito a recuperare, ho già realizzato la puntata dedicata per esempio alla parola ai giurati di Sidney Lumet, Duel di Steve Spielberg ma anche La Casa di Sam Raimi oggi invece voglio prendere in considerazione per un film che ha segnato l'esordio dietro la macchina da presa di un regista ma a differenza di quelli che sono i cineasti che ho citato poc'anzi che sono poi diventati dei grandissimi artisti, dei grandissimi registi che hanno scritto davvero la storia del cinema ecco oggi voglio fare invece l'esempio opposto cioè un esordio chiaramente brillante con un film vedremo che tra l'altro a me piace tantissimo ma di un regista che però poi si è spento un po' troppo presto da un punto di vista artistico. Sigla e poi partiamo! Ed allora ben trovati davvero in questa nuova puntata della rubrica dedicata ai migliori esordi alla regia una rubrica che voglio portare avanti perché chiaramente mi permette attraverso delle recensioni comunque di parlare di film che hanno comunque segnato la mia vita da cinefilo e che hanno segnato spero la vita anche vostra diciamo di tutti quelli che sono appassionati di cinema come ho detto è chiaro che nelle puntate precedenti ho voluto prendere in considerazione e ho voluto giocare anche facile con dei cineasti che hanno davvero scritto la storia del cinema quindi che hanno avuto la possibilità di esordire e hanno avuto anche la bravura di esordire con dei grandi film che sono poi rimasti davvero nell'immaginario collettivo ripeto la casa, la parola ai giurati, i due tra gli altri e che quindi poi hanno permesso a questi cineasti davvero di esplodere, di poter confermare tutto quello che di buono avevano già fatto vedere con il loro film d'esordio però purtroppo la storia del cinema è anche piena di esempi, di artisti, ma in realtà sia registi anche attori che magari hanno avuto la capacità di esordire con il botto, di esordire con delle pellicole che comunque sono rimaste nella memoria generale magari non sono dei capolavori, non sono dei film indimenticabili, non sono dei film eccezionali sarà il caso del film di oggi, però sono stati in grado di esordire con dei film brillanti però purtroppo la loro stella si è spenta un po' troppo presto e non sono più stati in grado di replicare tutto quello che di buono avevano fatto con il film d'esordio ed infatti questo è il caso di oggi, il film che appunto voglio prendere in considerazione in questa nuova puntata è un film che a me piace tantissimo, di un regista però che pur probabilmente non vi dirà neanche nulla per quanto riguarda il nome perché? Perché sto parlando di Peterowitz e quello che però è il suo film d'esordio che spero e mi auguro che già conosciate, abbiate già visto e cioè Sliding Doors ora, come ho fatto anche nelle puntate precedenti in questa rubrica mi voglio sentire abbastanza libero di parlare di quello che è il film in questione quindi Sliding Doors perché è un film già tra l'altro di diverso tempo fa, di circa 25 anni fa è un film che infatti si va a collocare negli anni 90, probabilmente rappresenta uno dei cult della commedia americana proprio degli anni 90 quindi voglio dare per scontato che lo conosciate, se non doveste ancora mai aver visto Sliding Doors ve lo dico fin da subito, cercate di recuperarlo il prima possibile perché secondo me vi ritroverete di fronte davvero ad un ottimo film probabilmente non un capolavoro come dicevo poc'anzi, non un film eccelso, non uno dei migliori film della storia del cinema ma un film che comunque ha scritto una pagina importante proprio della commedia americana degli anni 90 un film tra l'altro vedremo con una serie di interpreti a dei livelli in quel momento probabilmente eccezionali cioè Gwyneth Paltrow per esempio che ha vissuto proprio negli anni 90 la fase migliore della propria carriera di un regista però come dicevo poc'anzi che ha esordito sì brillantemente con questo film ma che poi fondamentalmente non è stato in grado di dar vita ad altre pellicole sullo stesso livello di Sliding Doors perché Peterowitz ha realizzato tra gli altri Johnny English con Rowan Atkinson, Synapse ma poi c'è poco altro davvero nella sua filmografia davvero ha esordito col botto però poi non è stato in grado di confermarsi quindi se non avete ancora visto Sliding Doors recuperato lo credo sia anche abbastanza semplice da reperire anche in un video non so se sia presente o meno in qualche piattaforma di streaming come sempre vi darò eventuali indicazioni qui sotto recuperatelo perché vi ritroverete di fronte ad un piccolo grande gioiello e poi eventualmente ritornate qui per tutti gli altri facciamo un brevissimo cenno di trama che comunque penso sia superfluo proprio perché se avete visto il film sapete di che stiamo parlando ma viene raccontata la storia di Ellen interpretata chiaramente da Gwyneth Paltrow che viene licenziata in tronco proprio all'inizio del film si indirizza verso la stazione di metropolitana più vicina per poter prendere la metro e ritornare a casa ma per tutta una serie di motivi viene ostacolata anche dalle persone che sono presenti nella stazione lei perde la metro non riesce a prendere la metropolitana che le passa infatti davanti e questo la porterà anche a ritornare a casa in ritardo in quel momento avviene la magia nel film perché? perché ci diciamo veniamo catapultati indietro di qualche secondo o di qualche minuto con Ellen che ritorna nuovamente quindi nella stazione e riesce a scansare le persone e in questo caso appunto la magia fa sì e si ha quella che è appunto la cosiddetta sliding door lei prende la metropolitana riesce a prendere la metro nella quale tra l'altro all'interno della quale conoscerà una persona che poi diventerà importantissima nella sua vita cioè James interpretato in questo film da John Anna ritorna a casa in maniera come dire anticipata rispetto al previsto una volta che torna a casa trova il suo fidanzato Jerry interpretato da John Lynch a letto con un'altra donna ed infatti i due si lasciano e questo porterà poi Ellen a costruirsi una nuova vita che porterà la porterà poi anche a una relazione sentimentale proprio con lo stesso James da questo momento in poi il film infatti si divide nelle due linee narrative una che è quella della realtà mettiamola così con Ellen che non è mai tornata a casa in tempo e quindi sta ancora con Jerry conduce una vita abbastanza triste e squallida dall'altra parte invece la Ellen che ha conosciuto James che si è costruita una nuova vita che ha lasciato Jerry e che quindi poi la porterà verso quello che poi sarà il finale purtroppo drammatico tragico perché appunto lo sappiamo nella linea narrativa fittizia chiamiamola così purtroppo Ellen ha un incidente automobilistico che la porta a morire a differenza invece della Ellen e della realtà che invece non morirà però poi faremo un cenno anche sul finale perché è anche il finale ad avere un senso importante in questo film come ho detto poc'anzi per me Sliding Door è un film che rappresenta in pieno quella che è la commedia americana degli anni 90 è un esempio lampante di quella che appunto di quel periodo diciamo di quel periodo storico del cinema americano e non soltanto è un film che soggettivamente parlando è una sorta di comfort zone perché davvero lo potrei rivedere all'infinito l'avrò già visto decine e decine di volte e non riesce mai a stancarmi in nessun modo e potrei rivederlo ancora decine di volte e riuscirà sempre anche a mettermi di buon umore riuscirà sempre ad emozionarmi a commuovermi perché è un film che pur non rappresentando sicuramente un capolavoro come ho detto poc'anzi lungi da me definirlo uno dei migliori film della storia del cinema ovviamente no però ha tutta una serie di caratteristiche che secondo me ne fanno davvero un grande film un ottimo film proprio nell'ambito chiaramente della commedia americana e non soltanto è un film strutturato tra l'altro secondo me benissimo già a livello di sceneggiatura per quanto riguarda la storia di base con questa idea appunto della sliding door quindi questo momento magico quasi mi verrebbe da dire che porta la vita di Ellen a sdoppiarsi tanto che infatti poi il film è una sorta di come dire film dentro al film cioè sono due storie all'interno di un'unica storia perché da una parte come detto abbiamo la Ellen che conduce, continua a condurre una vita purtroppo non particolarmente esaltante dall'altra invece la Ellen è che ricostruisce la propria vita e tra l'altro anche la messa in scena ci permette di seguire queste due linee narrative in maniera tranquilla cioè non si perde mai il filo della narrazione da una parte anche il look stesso della diciamo di Ellen ci indirizza rapidamente in quello che è appunto il binario narrativo specifico per intenderci la Ellen realistica, la Ellen della vita reale continua a mantenere i capelli lunghi per esempio ha un atteggiamento abbastanza remissivo non è appunto felice dall'altra parte Ellen si taglia i capelli abbiamo la Ellen con i capelli corti è proprio anche molto più vivace nel suo modo di comportarsi chiaramente poi conosce anche James e il tutto la porterà verso il finale quindi già il film secondo me è strutturato benissimo proprio per quanto riguarda la storia perché ci permette di seguire appunto due linee narrative senza mai che si venga in qualche modo a determinare una sorta di confusione tra le due cose mai tanto che infatti poi questi due binari narrativi confluiranno alla fine in maniera straordinaria e ci arriveremo tra poco ed è un film che è diretto anche diciamo in maniera splendida da quello che il regista in questione cioè Peterowitz ed infatti confermo tutto quello che ho detto poc'anzi Peterowitz con questo film grazie ripeto ad un ottimo materiale di base grazie chiaramente anche a degli ottimi interpreti in stato di grazia è stato in grado di girare di dirigere probabilmente il suo film migliore il film migliore della sua carriera che appunto è anche l'esordio probabilmente purtroppo per fortuna per lui non lo so ha appunto raggiunto l'apice della propria carriera proprio con l'esordio perché questo in teoria avrebbe potuto anche permettergli di sfruttare l'onda lunga di Sliding Doors che appunto è diventato con il corso degli anni un piccolo grande cult per realizzare qualcosa di come dire non dico paragonabile ma comunque riuscire a mantenersi su dei livelli più che buoni così non è stato purtroppo per Peterowitz tanto che infatti appunto Sliding Doors è una sorta di stella unica nel firmamento di quella che è la sua tra l'altro non particolarmente ricca filmografia segno evidente di quanto dicevo poc'anzi a volte succede che un regista esordisca davvero in maniera eclatante realizzando un piccolo grande cult e poi niente più diciamo la sua carriera è continuata quasi nell'anonimato tanto che infatti anche il suo nome lo stesso nome di Peterowitz non è che vada a suscitare chissà quali sensazioni particolari un film dicevo Sliding Doors che è strutturato benissimo è un film che gode come detto anche di ottime prove attoriali perché abbiamo un cast tra l'altro in perfetta forma in tutti quelli che sono i personaggi che si alternano in scena poi è chiaro che il protagonista principale anzi la protagonista principale è Gwyneth Paltrow probabilmente davvero nella fase migliore della carriera perché in quel periodo abbiamo per esempio Shakespeare in Love abbiamo tutta una serie di film che l'hanno vista grande protagonista anche con Wes Anderson e poi anche la stessa Gwyneth Paltrow tra l'altro negli ultimi tempi non è che abbia avuto la capacità di partecipare a dei grandi progetti credo che sia già da un po' di tempo che in realtà non partecipi più a nessun film forse né in qualche film Marvel però non ricordo in questo momento gli anni 90 sono sicuramente il decennio migliore per quanto riguarda la sua carriera abbiamo la presenza come detto poc'anzi di John Anna che poi sarebbe passato anche come dire maggiormente alla ribalta con le serie tv ma in questo film interpreta uno straordinario James divertentissimo il personaggio più divertente e coinvolgente del film stesso poi abbiamo anche John Lynch nei panni di uno sgradevolissimo Jerry che è il fidanzato iniziale di Ellen quindi un cast davvero mi verrebbe da dire diciamo in forma straordinaria chiaramente grazie anche non soltanto alla bravura degli attori ma a dei personaggi che sono stati scritti bene proprio a livello di sceneggiatura poi i dialoghi di questo film secondo me sono fenomenali perché funzionano a meraviglia sono dialoghi reali sono dialoghi veri sono dei dialoghi che ci permettono di empatizzare rapidamente con i personaggi di conoscerli senza che ci sia la necessità di dover ricorrere a chissà quali spiegoni a chissà quali descrizioni non è necessario nel film Sliding Doors noi diciamo in tempo abbastanza rapido abbiamo la capacità di capire con chi abbiamo a che fare quindi con la Ellen con il personaggio di Ellen nelle sue due versioni appunto con il personaggio di Jerry che è un personaggio come detto sgradevole perché chiaramente noi sappiamo che cosa sta combinando anche se magari Ellen nella versione reale non lo sa il personaggio di James come dicevo poc'anzi tutti coloro che magari si alternano in scena insieme a questi co-protagonisti quindi davvero un film che funziona su tutti i livelli la colonna sonora con delle sonorità tra l'altro che sono tipiche degli anni 90 quindi è un film che riesce in qualche modo ad offrire uno spettacolo completo uno spettacolo di intrattenimento ovviamente perché diverte è uno spettacolo commovente emozionante e tra l'altro anche con degli spunti di riflessione che non sono tra l'altro neanche tanto banali soprattutto alla luce del finale perché perché chi ha visto il film chiaramente se siete qua lo sapete nella fase finale del film cosa succede che comunque Ellen anche nella vita reale scopre di essere stata tradita dal suo fidanzato Jerry tanto che infatti questo porta ad una lite tra i due e in entrambe le linee narrative Ellen subisce un incidente stradale viene investita se non ricordo male in entrambi i casi ed infatti finisce in ospedale con una differente con un differente epilogo purtroppo perché perché nella linea narrativa fittizia diciamo quella che le ha permesso di conoscere James purtroppo lei muore quindi viene a mancare nell'altra linea narrativa che poi fondamentalmente è quella reale lei riesce a sopravvivere tanto che infatti in qualche modo il film ci vuole suggerire o che abbiamo assistito comunque probabilmente ad una grande favola ovviamente dalle tinte molto fantasy oppure chi lo sa magari la linea narrativa fittizia potrebbe rappresentare anche una sorta di grande sogno che Ellen diciamo ha fatto ha realizzato nella fase di coma chissà potrebbe anche essere questa l'interpretazione anche perché poi il finale è davvero da applausi perché Ellen chiaramente diciamo riesce a sopravvivere lascia l'ospedale lascia la propria stanza si indirizza verso l'ascensore all'interno del quale incontra James ma chiaramente lei non lo conosce perché non l'ha mai incontrato in questa linea narrativa in questo binario narrativo lei non lo ha mai visto perché non ha mai preso la metropolitana ad inizio film quindi i due non si conoscono si incontrano casualmente all'interno dell'ascensore dell'ospedale ad Ellen cade l'orecchino James lo raccoglie e le fa la classica battuta che noi abbiamo imparato a conoscere nell'altro binario narrativo e cioè lo sapeva che cosa dicevano i Monty Python e come chiaramente il personaggio di Ellen magicamente riesce a rispondere nessuno si aspetti l'inquisizione spagnola ma ovviamente lei non poteva sapere la risposta alla battuta i due si guardano in maniera fissa le porte dell'ascensore si chiudono ed il film finisce ovviamente questo cosa vuol dire appunto o che l'interpretazione del film appunto sia quella di una grande favola che ci ha permesso appunto di assistere a questo finale magico mi verrebbe da dire fantasioso magari appunto invece la Ellen sotto diciamo in coma a caso dell'incidente ha sognato tutto quello che noi abbiamo visto nell'altro binario narrativo quindi ma diciamo che la cosa meno importante l'interpretazione non è fondamentale quello che ci vuole dire il film fondamentalmente con questo finale è che anche nei momenti più duri anche nei momenti più difficili che la vita ci offre e che dobbiamo purtroppo affrontare dobbiamo tenere duro dobbiamo cercare comunque di affrontarli nella migliore maniera possibile anche quando tutto sembra andare a rotoli come infatti è la vita di Ellen nel binario narrativo reale perché lei scopre di essere tradita è incinta tra l'altro scopre di essere tradita dal fidanzato ha un incidente stradale ma nonostante tutto riesce a sopravvivere e nell'ascensore fondamentalmente lei incontra colui che nell'altra linea narrativa stava per diventare l'uomo della sua vita James quindi nonostante tutto riesce comunque a conoscerlo l'universo ha fatto sì che le loro strade comunque alla fine saranno state in grado di incrociarsi lo stesso poi chiaramente le porte dell'ascensore si chiudono e noi non sapremo mai come le loro vite saranno in grado di svilupparsi e a noi non interessa perché ovviamente è il messaggio finale è il messaggio che ci interessa cioè i due comunque hanno avuto la possibilità di incrociarsi di conoscersi e chissà magari avranno la possibilità di innamorarsi e di diventare davvero la persona migliore per l'uno e per l'altro quindi tutto quello che il film ci sta dicendo è anche nei momenti più difficili nei momenti più complicati anche quando la vita sembra non offrirti nulla di positivo bisogna tenere duro perché la svolta anche in quei momenti è dietro l'angolo oppure magari dietro la porta di un ascensore quindi un film tutto sommato anche interessante chiaramente non particolarmente complicato non stiamo parlando di chissà quali spunti di riflessione filosofici però ecco riesce in qualche modo anche a mettere una morale di fondo secondo me non banale e che appunto si integra perfettamente con quello che è il clima generale che il film ci offre dall'inizio fino letteralmente alla fine dura circa un'ora e quaranta se non ricordo male quindi tra momenti di divertimento di commozione momenti anche appunto di riflessione è questo finale che appunto risulta essere secondo me davvero indimenticabile perché è quello che rimane impresso probabilmente in maniera maggiore dopo che finisce il film quindi una pellicola davvero secondo me splendida meravigliosa un film che io consiglio a tutti di guardare ogni volta che mi si fa la domanda beh che film che commedia magari mi consigli di recuperare magari non particolarmente antica non particolarmente lontana nel tempo perché appunto stiamo parlando di un film di circa 25 anni fa il mio come dire il mio consiglio è sempre quello se non avete visto Sliding Doors guardatelo perché probabilmente vi ritroverete di fronte ad un film in grado di farvi innamorare come ha fatto innamorare il sottoscritto quindi un esordio registico col botto perché comunque davvero Peter Horowitz con questo film ha avuto la capacità di realizzare un grande gioiello purtroppo per lui purtroppo per lui che è rimasto un caso isolato nella sua filmografia ora io non so nei prossimi anni ma non penso che riuscirà a fare chissà che cosa Peter Horowitz da un punto di vista registico glielo auguro ma mi pare improbabile quindi Sliding Doors rimarrà davvero una sorta di punta di diamante meravigliosa in una carriera in una filmografia che non gli ha regalato grandi soddisfazioni però siccome questa è la rubrica dei migliori esordi registici dopo aver parlato di grandi capolavori di grandi cineasti di grandi registi volevo dedicare una puntata anche ad un film che appunto è un esordio un esordio col botto ma probabilmente è appunto il momento migliore di una carriera non particolarmente florida quindi questo era il film di cui volevo parlarvi è un film che già avevo in testa da qualche tempo di recensire perché comunque è un film al quale ritengo particolarmente nel momento in cui tra l'altro ho scoperto in maniera abbastanza casuale che rappresentava appunto un esordio registico ho detto vabbè uniamo l'utile al direttevole oppure il direttevole al direttevole e l'ho voluto inserire proprio in questa rubrica quindi ho voluto parlarvi di un film che diciamo io davvero per il quale stravedo per il quale nutro un amore folle da sempre praticamente da 25 anni fatemi sapere chiaramente che cosa ne pensate voi di Sliding Doors se è un film che vi piace se non vi piace fatemi sapere la vostra opinione qui sotto tra i commenti perché come sempre vi risponderò con molto molto piacere io vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale e se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti ricordate anche che qui sotto trovate innanzitutto un link di affiliazione Amazon che io vi invito ad utilizzare per fare qualunque vostro acquisto su Amazon a voi non cambia nulla non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà automaticamente girata da Amazon a sottoscritto e quindi così sosterrete il canale ed inoltre trovate anche la mia wishlist Amazon nel caso in cui voleste farmi un regalo con DVD e Blu-ray che andranno ad ampliare la collezione che vedete alle mie spalle trovate anche il canale Telegram iscrivetevi per rimanere aggiornati su tutte le mie attività social io vi do come sempre l'appuntamento ad un prossimo video ad una prossima video recensione ad una prossima puntata anche della rubrica i migliori esordi alla regia fatemi sapere che cosa ne pensate di questa rubrica spero davvero che vi continui a piacere come piace a me realizzare questi video ci vediamo anche ci becchiamo anche nella mia pagina Facebook alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi come sempre io vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti